A tutti voi buonasera dal Tg Maxi, in apertura c'è la cronaca. La Polizia Postale dell'Abruzzo ha eseguito 19 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 23 cittadini italiani e 3 romeni residenti in Abruzzo, Lazio, Puglia e Campania, stroncando un'associazione criminale dedita alla clonazione e all'indebito utilizzo di carte di credito. 6 persone al momento irreperibili sono ricercate. Le indagini sono state coordinate dal PM David Mancini della Procura Distrittuale Antimafia di L'Aquila, 15 sono state le persone arrestate a Roma, 6 in provincia di Foggia, 2 in quelle di Teramo e Bari e 1 a Napoli. Le accuse sono quelle di associazione per delinquere finalizzata all'indebito utilizzo di carte di credito e alla frode telematica. I componenti dell'associazione si procuravano i codici delle carte di credito via internet facendosi ritrasmettere per posta elettronica dagli Stati Uniti e tramite gli skimmer e li trasferivano su comuni carte dotate di banda magnetica che poi venivano usate alla stregua di comuni carte di credito e negozi di commercianti compiacenti. I negozi erano situati a Roma, Napoli e nelle province di Teramo, Foggia e Bari. A dare il via all'indagine è stata la scoperta di una transazione sospetta in un albergo della provincia di Teramo dove i poliziotti rilevarono un pagamento di 27 mila euro fatto dallo stesso titolare finito agli arresti domiciliari. In seguito, grazie a intercettazioni telefoniche e telematiche, è stato scoperto un numero impressionante di transazioni illecite per oltre 500 mila euro. Altre transazioni per oltre 2 milioni sono state sventate dall'intervento degli agenti dell'Apple Post. Le vittime sono per lo più cittadini americani, cinesi, giapponesi e dei paesi del nord Europa, poche invece le vittime italiane. In chiesta Sanitopoli, nuova udienza oggi presso il Tribunale di Pescara dove è stato ascoltato l'ex autista del patron di Villa Pini, Vincenzo Angelini. L'uomo ha confermato di essersi recato a casa dell'ex governatore del Turco a Colle Longo, diverse volte consegnando soldi e buste chiuse. La testimonianza di Dario Sciarrelli, l'ex autista dell'ex patron di Villa Pini, Vincenzo Maria Angelini, è stata al centro del processo relativo all'inchiesta Sanitopoli su presunte tangenti nella sanità privata, in programma oggi nel Tribunale di Pescara. Per la prima volta era presente in aula Angelini, il quale non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa. Sciarrelli ha raccontato di aver accompagnato tante volte Angelini a Colle Longo, a casa dell'allora presidente della regione, Ottaviano del Turco, riferendo in particolare di un episodio il 2 novembre 2007. In quell'occasione l'autista ha detto di aver accompagnato Angelini, il quale portava con sé una busta contenente quattro mazzette di banconote legate con fascette. Sciarrelli ha aggiunto che quando Angelini ha fatto ritorno in auto portava con sé una busta di mele. L'autista ha riferito di aver effettuato su incarico di Angelini una serie di fotografie riguardo a quell'episodio, tutte proiettate in aula. L'autista ha aggiunto di essersi recato due o tre volte anche da solo a casa di Del Turco, a Colle Longo, per portare sempre buste chiuse. Sempre, secondo quanto da lui riferito, buste sarebbero state consegnate personalmente all'ex presidente in alcune sedi della regione all'Aquila, in un'abitazione che aveva a Roma, nei pressi di Via del Babu. L'autista ha parlato anche di una cena a Colle Longo, a cui era presente l'ex capogruppo regionale del PD, Camillo Cesarone, anche lui imputato nel procedimento. Il processo riprenderà il 6 luglio con l'audizione, tra gli altri, di due segretarie di Angelini. Il PD in Consiglio Comunale a Lanciano ha deciso di ricorrere al TAR per l'assegnazione di 15 seggi alla maggioranza e non 14 come assegnati dall'ufficio centrale presieduto dal presidente del Tribunale Frentano. Il ricorso sarà discusso il 28 luglio. Il primo candidato consigliere della coalizione di centrosinistra, risultato non eletto alle amministrative di Lanciano, Vincenzo Maranzano, del PD, ha presentato ricorso al TAR per chiedere che siano assegnati 15 seggi alla maggioranza e 9 alla minoranza. Maranzano ha presentato ricorso contro il comune di Lanciano e nei confronti del consigliere Luca Antonelli, per chiedere l'annullamento della parte del verbale dell'ufficio centrale elettorale che non lo considera eletto e assegna 14 seggi alla maggioranza e 10 alla minoranza. Il ricorso si baserebbe sul fatto che il premio di maggioranza assegna il 60% dei seggi ai consiglieri eletti nella coalizione del sindaco Mario Pupillo e il 40% alla minoranza. Su 24 consiglieri che compongono il consiglio comunale, 14,4 sono di maggioranza e 9,6 di minoranza. Secondo il PD, l'arrotondamento di 14,4 andrebbe fatto per eccesso e non per difetto. Il quindicesimo consigliere sarebbe proprio Maranzano, a spese del consigliere di minoranza Luca Antonelli, appunto, di energie nuove. L'ufficio centrale, presieduto dal presidente del Tribunale di Lanciano, ha invece arrotondato per difetto, assegnando 14 consiglieri alla maggioranza e 10 all'opposizione. Il ricorso verrà discusso il 28 luglio prossimo, nello stesso giorno in cui si dibatterà sul ricorso della coalizione di centrodestra che chiede l'annullamento dell'assegnazione del premio di maggioranza al sindaco Pupillo. Il neosindaco di Bellante, Mario Di Pietro, gli assessori e consiglieri comunali non riceveranno alcuna indennità per l'anno in corso ritenendo indispensabile essere di esempio nel momento in cui vengono chiesti sacrifici ai cittadini. Dunque lavoreranno gratis facendo risparmiare diverse decine di migliaia di euro. Nel 2011 Bellante dovrà affrontare una manovra complessiva di 283 mila euro. A 170 mila euro ammonta il taglio dei trasferimenti dello Stato. Circa 55 mila euro sono i minori trasferimenti regionali per il diritto allo studio, cui vanno aggiunti circa 58 mila euro in meno per la spesa sociale. Queste cifre rendono problematici in particolare gli interventi nei settori della cultura, dello sport e dei servizi alla persona, colpendo ancora una volta i soggetti più deboli. La priorità dell'amministrazione comunale, dichiara il sindaco, è stata quella di salvaguardare i servizi e le prestazioni erogate ai cittadini effettuando una rimodulazione delle tariffe commisurata alle necessità di coprire le minori entrate. Ed ora la sanità, nuova area per le attività chirurgiche all'ospedale di Atessa per migliorare la qualità dei servizi, previsti anche i due posti letto di terapia intensiva post-operatoria. Ambienti più confortevoli e meglio attrezzati per i pazienti che saranno ricoverati al San Camillo di Atessa. I lavori sono stati predisposti dalla Direzione Generale della ASLE nell'ambito della riorganizzazione delle attività chirurgiche. Nell'ospedale è stata realizzata una nuova area di degenza chirurgica dotata di stanze con bagno interno e ambulatori per le attività di chirurgia e ortopedia che consentiranno di migliorare la qualità alberghiera. Allo stesso tempo appena il vecchio reparto di chirurgia sarà liberato, prenderanno in via i lavori di adeguamento per accogliere posti letto, ambulatori e palestre per la riabilitazione. I posti letto restano 30 nel pieno rispetto della dotazione attuale, prevista peraltro dal piano sanitario regionale. Inoltre la ASLE Anciano Vasto Chieti sta valutando la possibilità di istituire nell'ambito del nuovo blocco operatorio due posti letto di terapia intensiva post-operatoria. Ci siamo impegnati per consentire all'ospedale di Atesta di elevare il livello dell'accoglienza, ha sottolineato il direttore sanitario della ASLE Medeo Budassi, che rappresenta per i malati un elemento importante in termini di qualità percepita. Un investimento progettuale ed economico per circa 100.000 euro, destinato a ridare slancio ad una struttura che ha un ruolo importante nella rete dell'offerta aziendale e che avrà i suoi punti di forza nella riabilitazione e in particolari attività chirurgiche. Scontro frontale tra due auto nel primo pomeriggio sulla statale 153 tra Ofena e Capestrano, una Peugeot proveniente da Montesilvano con a bordo una famiglia di quattro persone, padre, madre e due bambini di 10 anni circa, si è schiantata frontalmente con una BMW che proveniva in senso opposto, guidata da un trentennio originario di Potenza ma domiciliato a Dofena. Nel violento urto sono rimasti tutti feriti e trasportati con un'ambulanza e con auto private ai pronto soccorso di L'Aquila e Popoli. Le condizioni di salute dei feriti non sarebbero gravi, traumi e contusioni sono stati giudicati guaribili con prognosi salvo complicazioni di 7 e 20 giorni. La pagina del lavoro, nuovo sciopero alla Severi di Atessa, l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne ha deciso che i lavoratori non riceveranno il premio di risultato. La Fium CGL ha chiesto l'intervento della politica, ascoltiamo Marco Di Rocco della Segreteria Provinciale. Questa mattina la RSU ha scioperato due ore con l'assemblea davanti alla fabbrica e oggi pomeriggio quattro ore perché siamo al paradosso, cioè la Fiat e la Sevelli soprattutto quest'anno non pagheranno il premio di risultato e quindi sarà zero anche quest'anno. I lavoratori Sevelli dopo che nel 2010 hanno prodotto 190.000 furgoni senza neanche un'ora di cassa integrazione non hanno diritto al premio di risultato mentre le aziende dell'indotto quest'anno prenderanno oltre 1.000 euro. Marchionne ha deciso di dare i soldi solo agli azionisti Fiat dividendo 300 milioni di euro e zero euro ai lavoratori. Quindi sarà un'estate molto triste per i 6.000 lavoratori di Sevelli e per il territorio. Noi crediamo che i sindaci e la politica debbano intervenire contro Sevelli e i lavoratori devono continuare a fare sciopero. I finanzieri della compagnia di Teramo in due distinte operazioni hanno sequestrato oltre mezzo chilo di marijuana e arrestato due persone in manette. Sono finiti un uomo di 25 anni senegalese e uno di 40 di pineto. La droga è stata trovata a bordo delle loro auto bloccate per un controllo. Il senegalese aveva l'obbligo di firma in alcuni giorni della settimana presso un commissariato di Roma. Sosta a pagamento nel tratto della strada parco compreso tra via Muzzi e il confine di Montesilvano. Si tratta di un provvedimento tampone per l'estate, ha detto l'assessore comunale alla mobilità Fiorilli presentando il piano parcheggi che terminerà il 21 agosto. Per andare al mare si potrà parcheggiare nella strada parco, costerà 2 euro e 50, lo si potrà fare soltanto il sabato e la domenica e nella settimana di ferragosto. Il servizio cesserà il 21 agosto. Ascoltiamo il vice sindaco di Pescara, assessore alla mobilità Berardino Fiorilli. Una soluzione da parte dell'amministrazione che è tesa a evitare quella che sarebbe stata sicuramente una misura più odiosa ripristinare il parcheggio sui marciapieni. Quest'anno non avendo a disposizione le aree private a ridosso del parco lenario abbiamo fatto questa scelta diversa sicuramente non facile ma che permetterà comunque di posizionare le auto su un tratto di strada di circa 3 km un tratto percorribile a senso unico a passo Duomo a 10 km orari dove sarà possibile parcheggiare disponendosi su due file invitiamo i cittadini a rispettare il coce della strada ma soprattutto ad imboccare l'ingresso più vicino al proprio tratto di competenza perché non sarà possibile poi percorrere la tutta quindi ognuno dovrà entrare in uno dei 5 incressi che saranno elencati più vicino al tratto di spiaggia o di riviere che lo interessa. Ricordiamo che si tratta comunque di una soluzione non definitiva Soltanto tutti i sabbati e le domeniche dalle 9 alle 20 la notte no, assolutamente gli altri giorni della settimana no ad eccezione poi della settimana di ferrocosto che abbiamo visto che statisticamente è la settimana in cui c'è più afflusso al mare quindi dalla settimana dall'8 al 16 agosto per tutti i giorni il 21 agosto cesserà definitivamente Oltre a questa soluzione tuttavia c'è anche un bus navetta che potrà essere preso gratuitamente dopo aver parcheggiato nell'area di risulta Il bus navetta sarà presente anche tutti sabbati e domenica che partirà gratuitamente per tutti questo lo ricordiamo, anzi invitiamo ad utilizzare soprattutto il bus navetta il sabato paga 2 ore e 50, la domenica non paga nulla e prende gratuitamente il bus navetta noi anzi cerchiamo di favorire ancora di più questo mezzo cercando di far sì che insieme alla Stata Parco si riesca a risolvere l'emergenza parcheggi che purtroppo è un'emergenza più che decinale a pescare e noi in questo modo crediamo di averla tamponata egregiamente Orazio Danna il nuovo questore di Chieti subentra ad Alfonso Terribile trasferito a Brindisi dopo 23 mesi di permanenza nel capoluogo Teatino tutte le realtà sono sottoposte a forme di infiltrazione e Chieti e la sua provincia non fanno eccezione ha detto l'attenzione sarà massima e ci sarà un'azione sinergica con le altre forze di polizia E' Orazio Danna il nuovo questore di Chieti che prende il posto di Alfonso Terribile trasferito a Brindisi dopo 23 mesi di permanenza nel capoluogo Teatino Così Danna si è presentato questa mattina di fronte ai rappresentanti della stampa E' la prima volta che vengo nella città di Chieti non avevo avuto occasioni in passato di essere in questa città ritengo che sarà un'esperienza interessante provengo da una realtà, almeno le mie origini sono da una realtà molto simile a questa io sono 10 reale in provincia di Catania che pur non essendo capoluogo di provincia ha degli aspetti abbastanza similari con quelli che ho potuto già riscontrare in questa città quindi per quanto mi riguarda sarà un po' un ritorno alle origini dopo tanti anni di vita in un ambiente metropolitano potrò riscoprire alcuni aspetti di quella dimensione provinciale che devo dire mi mancava un po' da molti anni Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria ha poi aggiunto il nuovo questore tutte le realtà sono sottoposte a forme di infiltrazione e Chieti e la sua provincia non fanno eccezione l'attenzione sarà dunque massima e ci sarà un'azione sinergica con le altre forze di polizia Sicuramente l'ordine della sicurezza pubblica ma anche la polizia giudiziaria sono compiti rimessi a tutte le forze di polizia non ci deve essere competizione fra una forza di polizia e l'altra la mia esperienza mi ha insegnato che tutte le volte che si lavora insieme di buon accordo si raccolgono risultati laddove questo non dovesse accadere i risultati non sono certi e talvolta neanche arrivano E voltiamo pagina Per la prima volta a Lanciano la parrocchia di Santa Lucia ha organizzato un corso di canto gregoriano 28 gli iscritti di cui 4 fuori regione Un primo corso di canto gregoriano è stato organizzato dalla parrocchia di Santa Lucia di Lanciano nella persona del parroco Fra Massimiliano di Carlo in collaborazione con i maestri Don Nicola Bellinazzo e Cristian Gentilini Il corso che si terrà appunto nella chiesa di Santa Lucia è stato pensato e realizzato anche con il patrocinio dell'associazione Cappella Musicale della Basilica di San Francesco d'Assisi con il prestigioso aiuto di padre Giuseppe Magrino Direttore della medesima Cappella Musicale Hanno inoltre contribuito alla realizzazione del corso la provincia di Chieti, il comune di Lanciano la BLS e il presidente dei corsi musicali estivi di Lanciano Andrea Carucchio Il corso di primo livello che ha già 25 iscritti di cui 8 provenienti da fuori regione ha una scadenza triennale e vuole recuperare un patrimonio liturgico religioso di tutta la chiesa e far conoscere e far vivere il canto gregoriano verranno offerti gli elementi fondamentali di lettura della notazione neumatica e di interpretazione ritmica e non è richiesta nessuna conoscenza di base del canto gregoriano Don Nicola è una novità assoluta? Sì, penso per questa terra abruzzese sia proprio una novità assoluta fare un corso di canto gregoriano che per come prima volta dura tre giorni belli densi ecco il programma inizia proprio dalla base e avrà uno sviluppo poi in tre anni E poi l'apice ad Assisi? L'apice si pensa sì ad Assisi dove si farà una celebrazione ma questa la faremo nei prossimi anni Chi ha aderito? In quanti? Hanno aderito penso molti direttori di coro coristi, persone interessate saranno una 25-30 persone Splendido modo per avvicinarsi a Dio Sicuramente Volevo sottolineare proprio che il canto gregoriano prima di metterci a studiarlo bisogna non dimenticare mai che è una preghiera liturgica ed è la preghiera per eccellenza liturgica della Chiesa Cattolica Si ritroveranno domani e domenica a Città Sant'Angelo gli 11.000 alpini abruzzesi per il raduno regionale Le pene nere in Abruzzo sono organizzate in 192 gruppi locali alla manifestazione di Città Sant'Angelo parteciperanno numerose delegazioni provenienti da tutte le regioni italiane Nel presentare l'evento il presidente dell'Anna Abruzzo Giovanni Natale ha annunciato la candidatura di L'Aquila ad ospitare la donata nazionale del 2014 nella ricorrenza del quinto anniversario del sisma del 6 aprile 2009 e a 25 anni dall'unica donata nazionale alpini tenuta in Abruzzo a Pescara nel lontano 1989 domenica a 3 luglio si svolgerà a Francavilla una passeggiata ottocentesca nel Parco Villanesi iniziativa promossa dall'Associazione Le Franche Villanesi Un filo rosso lega strettamente le donne dell'Associazione Culturale Le Franche Villanesi al volontariato lo stesso filo rosso che collegherà virtualmente il 3 luglio Parco Villanesi di Francavilla al Giardino di Striano parco culturale di fine ottocento dove la proprietaria Giulietta Gordigiani ospitava gli esponenti della cultura del suo tempo intrecciando legami culturali e sentimentali con D'Annunzio e dell'Onora Duse l'occasione è offerta dalla settima edizione della passeggiata ottocentesca un'iniziativa che rientra in un più ampio programma culturale per il 2011 anno europeo del volontariato ideato sotto la direzione artistica dell'attrice Franca Minucci dal presidente dell'Associazione Culturale Maria Rosaria Sisto noi siamo un'associazione di Francavilla costruita da donne che da 8 anni opera sul territorio per poter attirare l'attenzione delle istituzioni sulle valenze importantissime di un territorio di Francavilla che è quello delle colline villanesi sul quale noi abbiamo come dire ideato un progetto urbanistico vero e proprio rievocheremo proprio i tempi d'oro del parco tempi quando il parco nell'ottocento era dedicato proprio sia alle manifestazioni culturali sia proprio all'attività quotidiana dei coloni dei proprietari che potevano vivere nella chiesetta di Madonna delle Grazie i loro momenti di culto il percorso inizierà dalla Domus Romano-Bizantina da questo sito che è soltanto un sito diciamo erboso e insieme con il sindaco io mi avvierò snodando un filo rosso verso il parco villanesi e nel parco troveremo il corteo che ci aspetterà e toccheremo i vari punti del parco dove ci saranno momenti culturali diversi tipo recitazione di brani del fuoco da parte dell'attrice Franca Binnucci una scena di pittura estemporanea ottocentesca fatta da due pittrici che sempre in abiti ottocenteschi un concerto d'arpa sul sagrato della chiesetta un spettacolo teatral musicale nella rotonda e poi balli popolari nella rotonda e ancora musica diciamo di intrattenimento a seguire protagonista dell'evento il parco villanesi la cui bellezza e vocazione culturale sarà ulteriormente saltata grazie al successivo ciclo di incontri tra monti e mare in programma le ultime tre domeniche di luglio alle 18 e siamo alla pagina sportiva per il calcio dopo l'ingaggio di Insigne il Pescara ufficializza il centrocampista brasiliano Romulo Eugenio Togni sfuma il sogno di portare in bianca azzurro Mattia Destro che si è accasato a Siena dopo il talentuoso Insigne il Pescara si è arricchito di un nuovo tassello prendendo gradualmente forma sulla linea mediana arriva il brasiliano del Sorrento Romulo Eugenio Togni la trattativa è stata perfezionata con l'arrivo in bianco azzurro del sudamericano di lunga militanza in Italia nel suo passato campionati ad Arezzo Manfredonia e Belluno a partire dalla stagione 2002-2003 biennale per lui classe 1982 dotato di buona tecnica e di buon fisico 183 cm per 76 kg tatticamente sembra compatibile con Cascione e Verratti è sfumato invece il sogno di portare Mattia Destro in rival adriatico il Geno infatti tramite il proprio sito ufficiale riferisce di aver definito la cessione a titolo definitivo del promettentissimo attaccante per la punta nel giro di Lander 21 è stato ratificato l'accordo col Siena fase di stallo per Pelitzer bisogna prima spoltire la rosa dei centrali difensivi biancazzurri e fondi la priorità resta Cone sul quale si registrano difficoltà Antonio Balzano terzino dell'Atletico Roma potrebbe firmare a breve dovrebbe arrivare in comproprietà e nell'operazione potrebbero rientrare Romito o Vitale il giovane per rotta ha molto mercato oltre che Genoa Napoli Fiorentina e Atalanta il difensore classe 94 piace al Palermo che potrebbe mettere sul piatto della bilancia la Ribi intanto la Sampdoria ceduto a titolo temporaneo al Pescara nell'ambito degli accordi di compartecipazione i diritti sportivi dei giovani calciatori Bruno Martella e Loris Bacchetti Ed è tutto prima di lasciarvi al Meteo Max vi ricordo questa sera a partire dalle ore 20 e 30 l'appuntamento con Amuso Duro in studio Sergio Mancini e Gianfranco Semproni grazie dell'attenzione arrivederci a domani grazie a tutti